Nella separazione del grano dalla gramigna ci sarà per i primi il regno dei cedi e per i secondi la morte seconda, ma non c'è una via di mezzo quindi? E se sì, come potrebbe funzionare? C'è la via di mezzo che è la via, diciamo, l'esperienza che andranno a vivere i poveri di spirito, cioè quelle entità umane, quegli spiriti umani, ancora giovani, con poca esperienza, con poche incarnazioni, quindi incapaci di fare del male, ma anche incapaci, perché sono ancora spiriti bambini, di comprendere le verità celesti e come un po' duemila anni fa Gesù ha detto io non vi posso spiegare tutto perché non ne portereste il peso, cioè non lo capireste, ma verrà lo spirito della verità, il paraclito che vi spiegherà tutte le cose, perché dovevamo arrivare a un'era dove l'uomo aveva scoperto la scienza per poter capire certe cose, il cosmo, eccetera, eccetera, gli extraterrestri duemila anni fa non era comprensibile, quindi se noi prendiamo un'entità spirituale che magari è a quel livello lì, Gesù non la giudica, non la condanna perché è un bambino incapace, cioè non può capire certe cose, quindi questa categoria di spiriti proseguirà la sua evoluzione in altri pianeti. Cioè non entrerà nel regno, ma non viene condannata, ma prosegue la sua evoluzione normalmente in altre società che permetteranno appunto lo svolgersi di tutte quelle esperienze di cui hanno bisogno ancora per crescere. Gli altri condannati o salvati. Quindi di fatto tra i salvati ci sono anche questa entità perché rientra nelle beatitudini beati i poveri di spirito, perché non fanno la morte seconda, cioè salvano la loro evoluzione. Quindi non sono ancora abbastanza evoluti da entrare nel regno, ma tra virgolette vanno nel regno dei cieli, cioè in altri mondi dove non c'è lo schifo che c'è in questo pianeta. Cioè non hanno colpa, sono innocenti, sono bambini. Quindi per regno dei cieli intendiamo anche altri mondi dove non c'è il peccato come c'è in questo mondo. Il peccato come c'è in questo mondo.